Per facilitare le rimesse dei migranti, Western Union sta puntando molto sull'innovazione. Quali sono le ultime novità? Le ultime novità di questo campo sono giustamente le rimesse elettroniche. Le rimesse elettroniche sono il nuovo modo di inviare soldi a cassa per parte dei migranti. Come funziona in Italia? In Italia è molto semplice. I clienti possono aprire un conto bancario e hanno accesso a inviare la rimessa via web, direttamente dal computer, dal tablet, via ITM o via mobile. Quella è la parte più importante che abbiamo come innovazione in Italia. E già stiamo lavorando molto attivamente con le banche più grandi in Italia. Nel suo intervento al forum CSR ha annunciato anche novità che riguardano la multicanalità e i canali social. Sì, a livello di multicanalità e social noi siamo già presenti. Abbiamo una piattaforma globale che è un po' lo che noi chiamiamo il railway o i binari nel quale si appoggiano diversi operatori. Parte di questi binari già sono attivi per esempio con le banche italiane. Giustamente la multicanalità noi cerchiamo di essere presente in tutta la cadena dei valori, in tutti i punti di contatto con il cliente. Il cliente vuole inviare e ricevere cash, vuole inviare e ricevere la rimessa a livello elettronico per una banca, vuole inviare e ricevere la rimessa direttamente a livello elettronico in una Mastercard o direttamente dall'ITM. Proprio con Mastercard recentemente avete avviato un servizio all'avanguardia in Romania. In Romania noi abbiamo un nuovo servizio che giustamente i clienti possono optare per prendere la rimessa direttamente su una Mastercard. I clienti vanno su un bancomat e prelevano il contante o direttamente dicono non voglio il contante, voglio caricare la Mastercard e il soldo della rimessa. E quello già è attivo da un mese. Chi è il ruolo svolge un operatore come Western Union per migliorare l'inclusione finanziaria e il supporto ai migranti? Western Union è molto importante in questo. Noi siamo i leader del mercato a livello mondiale, come tale siamo un po' quelli che facciamo il leading the path, per i clienti e offriamo prodotti nuovi. I clienti hanno due bisogni fondamentali quando arrivano i soldi migranti. Il numero uno è trovare lavoro, il numero due è inviare soldi a casa. Noi gli offriamo ai clienti la possibilità non solo di inviare soldi a casa per il canale cash to cash, anche per il canale bancario. In Italia avete stretto accordi con quattro banche. Quali sono i vantaggi di una partnership con Western Union? I vantaggi personali per le banche sono molto importanti, nel senso che le banche possono creare una nuova relazione con i clienti esistenti, offrendo prodotti nuovi, giustamente la rimessa elettronica, in un secondo termine di acquistare i clienti nuovi. In una concorrenza molto importante fra le banche, la possibilità di offrire prodotti tailored alla testa del cliente sono giustamente molto importanti per mantenere i clienti esistenti e creare valore e un'opportunità per trovare nuovi clienti sul mercato. Oggi il CESPI ha presentato anche i risultati dell'Osservatorio Nazionale sull'inclusione finanziaria dei migranti. Che cosa si può fare per migliorare ancora in questo campo? Secondo me i dati che hanno portato la persona del CESPI sono molto importanti e crediamo che sono dati che saranno condivise fra diverse persone che lavorano all'interno delle banche per creare prodotti molto più tailored ai clienti, soprattutto ai migranti. Oggi l'offerta di prodotti per i clienti migranti ha bisogno di un sviluppo ulteriore perché i clienti ancora o non lo conoscono, devono essere comunicati in modo più importante o hanno ancora la possibilità di essere sviluppati in modo più customer friendly.